Per la Berloni potrebbe scriversi il capitolo finale della sua storia aziendale. I soci di maggioranza taiwanesi che detengono il 99% delle quote societarie hanno messo in liquidazione l'azienda, il che vuol dire interruzione della produzione e licenziamenti. Una pentola di acqua bollente sulla testa di 85 famiglie di lavoratori che a 20 giorni dal Natale hanno ricevuto questa bella strenna fatta di angoscia, frustrazione e incertezza per il proprio futuro. La storia della Berloni è iniziata negli anni del boom economico italiano, gli anni 60, quelli della rivoluzione industriale e del benessere diffuso, fino ad arrivare negli anni 90 ad essere una delle aziende al top nell'Olimpo dei mobilieri a livello nazionale assieme ad altri marchi storici pesaresi. Poi la crisi strutturale partita nel 2009 ha portato l'azienda nel 2013 sull'orlo del baratro e lì è stato l'inizio della fine perché per superare la crisi si inizia a fare lo spezzatino e a vendere i rami dell'azienda. L'anno dopo arrivano gli orientali che si accaparrano il pacchetto di maggioranza. Ad oggi con un fatturato di 19 milioni di euro e un incremento in doppia cifra più 20 rispetto al 2017 e con consegne da fare e commesse nel cassetto ed una trattativa avviata con la proprietà per un premio di produzione ai dipendenti arriva l'annuncio shock e lo stroncamento della ripresa. Questa mattina agli 85 dipendenti e ai sindacati si è ripresentato lo spettro che sembrava essere scongiurato. È arrivata questa decisione presa dai soci a maggioranza da quella che abbiamo capito che è quella di mettere in liquidazione. Quindi non la capiamo in più è terribile perché mettere in liquidazione una società vuol dire interrompere l'attività produttiva e di fatto quindi interrompere anche tutti i rapporti di lavoro in atto. Adesso vedremo cosa è possibile fare con l'eventuale liquidatore che arriverà, le sue decisioni quali saranno. Noi saremo sempre a chiedere che l'azienda rimanga sul territorio, che continui a produrre perché è un'azienda che ultimamente non è che andava male, anzi era un'azienda in espansione e stava crescendo. Non riusciamo a capire questa scelta che noi riteniamo anche scellerata. Il sindacato farà quello che è nelle sue competenze. Speriamo bene, stiamo sperando in questo momento.